Ci troviamo con Elisabeth Tozzi, siamo in quella di Holmencon, la vigilia dell'ultima tappa della Coppa del Mondo. Dove riceverai la Coppa di Specialità Individuale? Cosa ha significato per te questa vittoria? Possiamo anche definirla, in qualche modo, per te un po' proprio la chiusura di un cerchio. Sì, veramente è stata una stagione ricca di emozioni e ricchi di momenti molto alti per me e quindi l'individuale è stata la ciliegina sulla torta per chiudere un po' il cerchio. È stata un'emozione incredibile perché dopo tanti sacrifici e tante batoste che ho preso in questi ultimi tre anni, è una rinascita per me e quindi un motivo di soddisfazione. Sicuramente ho lavorato tanto per chiudere in bellezza quella gara, non è stato semplice perché avevo tante aspettative e sicuramente tante pressioni su di me. Non è stato facile ma ci sono riuscita e sono molto orgogliosa di quello che ho fatto. Se inizio stagione ti avessero detto che saresti arrivata all'ultima tappa della Coppa del Mondo, in lotta per le prime tre posizioni della generale, già con una Coppa di specialità vinta, quattro medaglie mondiali, ritorno alla vittoria del Coppa del Mondo, ci avresti creduto, te lo saresti mai aspettato o non ci avevi proprio pensato? Diciamo che è stata una stagione al di sopra delle aspettative, nonostante io credessi molto nelle mie possibilità e di tornare comunque ad alto livello, però in questa maniera è stato tutto molto più grande e quindi non me l'aspettavo, però sono contenta che sono riuscita a tornare a questo livello. Ovviamente ci ho lavorato tanto e sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto anche come team e tutto l'aiuto che mi è stato dato durante questo periodo per tornare nelle mie capacità e a mostrare quello che valgo. Immagino il primo raduno della stagione in Toscana quando hai visto Ion, ovviamente Mirko già lo conosci bene, quando hai visto comunque Edo che era con voi in squadra durante l'estate. Già in quel momento ti sei resa conto che questo è il gruppo giusto? No, in realtà avevo un po' di paure ovviamente, non sapevo bene se mi sarei trovata bene o no, era tutto molto nuovo e quindi ovviamente dei dubbi c'erano, però devo dire che sono uscita da quel raduno con molta fiducia e sicuramente durante tutta l'estate mi sono resa sempre più conto di quanto Edoardo e Ionne siano stati fondamentali per me durante tutta l'estate, durante la preparazione e quindi mi hanno aiutato a ritrovare me stessa al tiro che non era una cosa scontata e quindi sono storiamente grata a loro. Per anni Coppa del Mondo hai avuto un grande amico in squadra come Beppe Montello che probabilmente ti è mancata come figura. Ecco Samu in qualche modo lo ha sostituito in questi anni Samuela Comola, vedo che c'è un bel rapporto tra voi. Sì, beh lei è una ragazza che mette molta allegria quindi riesce anche nei momenti magari non troppo felici o che magari sei dispiaciuto o hai comunque i tuoi pensieri riesce a farti ridere e a non pensare. L'ultima domanda è su un collega appena entrata qui, volevo chiederti se ti aspettavi di vedere Doro a quel livello ancora anche in questa stagione. Dai, no non è una sorpresa sicuramente, le sue capacità sono ormai un punto fermo e quindi no no me l'aspettavo assolutamente e ovviamente essere sempre ad alto livello non è facile però lei ha sempre dimostrato che durante tutte le stagioni di essere una delle top atlete nel biathlon quindi non è una sorpresa per me, anzi sono molto contenta per lei. Insieme state scrivendo la storia, sia la staffetta femminile sia anche la tratta a primo podio, prima doppietta. Sì, la staffetta femminile è stata una cosa veramente inaspettata però ricca di emozioni, era una cosa che nemmeno forse noi ci aspettavamo che succedesse, è stata veramente un'emozione incredibile e tutto quello che abbiamo, tutte noi, il lavoro che abbiamo fatto è stato ripagato e quindi sono molto contenta.